10 box a porta fiale per la gestione degli interventi e del dolore in emergenza. Questa la donazione dei Rotary Club Aretini alla Centrale Operativa Emergenza di Arezzo. Abbiamo oggi portato un piccolo pensiero alla Centrale Operativa di Emergenza Sanitaria. Come tradizione il Rotary è sempre al fianco della comunità e al servizio ovviamente dei cittadini. Facciamo quello che è possibile per dare un contributo alla città e alla comunità. Soprattutto in questo momento in cui il dottor Mandò porta avanti un lavoro veramente impegnativo. Qualsiasi piccola cosa può essere un grande contributo per il lavoro che stanno facendo. Il box a porta fiale anti urti viene impiegato dal personale dell'emergenza sanitaria negli interventi sul territorio e permette il trasporto delle fiale in sicurezza ed evita la rottura delle stesse in caso di urto garantendo poi l'isolamento termico per i farmaci termolabili e la protezione dai raggi solari per quelli fotosensibili. Attualmente il box viene utilizzato dal personale medico ed infermieristico delle automediche dell'ambulanza India per il trasporto dei farmaci stupefacenti utili per la gestione del dolore in emergenza. Tutto è grande, ma soprattutto è il pensiero quello che conta, l'attenzione a questa città nei confronti dell'emergenza urgenza 118 e della sua centrale perché dalle piccole cose vengono grandi fatti. Guardate che questo omaggio ci fanno i Rotary d'Arezzo, non è piccola cosa, è una cosa fondamentale e importante per la gestione dell'emergenza perché se le fiali che stanno dentro i contenitori di sicurezza non si rompono vuol dire che sono sempre utilizzabili e a volte capita negli zaini che non sono protetti che si possa rompere dei farmaci salvavita. In questo caso non succederà più.